cosa si nasconde nelle fondamenta di questo palazzo in via silvio d'amico siamo nel quartiere san paolo e al di là di questo portone si cela uno dei luoghi più misteriosi e affascinanti dell'archeologia sacra romana le catacombe di santa tecla scoperte casualmente nel 1961 durante la costruzione di questi edifici l'ipogeo custodisce la memoria della martire tecla e preziosi cicli pittorici risalenti al terzo secolo dopo cristo abbiamo due versioni della storia di tecla fondamentalmente la prima versione è quella che vede l'esistenza di una tecla orientale che fu strettamente legata alla figura dell'apostolo paolo che venne sepolta a due o tre stadi rispetto alla tomba dell'apostolo un'altra tradizione invece voleva fondamentalmente invece che fosse una martire romana morta durante le persecuzioni di dio cleziano sepolta poi in questa catacomba e sulla quale poi venne retto il suo santuario questa catacomba ovviamente è uno dei esempi più importanti dell'area no perché comunque si trova non lontano dalla basilica di san paolo e ospita quello che è uno dei gioielli dell'iconografia paleocristiana il cubicolo degli apostoli un cubicolo interamente decorato e il fatto appunto che ospiti il più antico ritratto dell'apostolo paolo noto appunto nella storia dell'iconografia paleocristiana fa appunto di questa catacomba il punto nevralgico per lo sviluppo dell'iconografia paolina l'associazione post scrittum in collaborazione con la pontificia commissione di archeologia sacra organizza ciclicamente delle visite guidate per poter consentire al pubblico di apprezzare alcune delle manifestazioni pittoriche più rilevanti della roma cristiana antica e di immergersi nei valori e nelle consuetudini dei primi cristiani l'associazione è nata da poco alla fine dello scorso anno quindi ci stiamo organizzando per offrire vari servizi queste quattro catacombe che ci sono state date in qualche modo in affido tre stanno nell'ottavo municipio quindi è nata contemporaneamente una collaborazione con il municipio per l'apertura di commodilla di santa tecla e di pretestato che sta al confine tra settimo e ottavo municipio